Il campionato della Regina non è ancora finito. La squadra Maranto potrà giocarsi l'ultima chance per restare aggrappata al professionismo. Il collegio di garanzie dello sport del CONI ha colto parzialmente il ricorso del club dello stretto sui punti di penalizzazione inflitti relativamente a presunte inadempienze relative allo scorso anno. Gli organi competenti hanno riconosciuto la linea difensiva Maranto, restituendo due dei tre punti in ballo. In poche parole si va al play-out. Fuori il Savoia, retrocesso. Dentro la Regina, l'avversario. Resta il Messina. Il derby salvezza è quindi ufficiale. Sabato subito l'andata dello spareggio alle ore 17. Allora resta Granillo il ritorno al San Filippo alle ore 15 di sabato 30 maggio.